Professor Ramon Kugat, a Bergamo, un grande professionista di questo settore, una giornata dedicata al settore, tante persone presenti a questo convegno, che impressione ha avuto? In primo, felicità alla società di Atalanta per organizzare questo evento così importante, perché questo è per il presente e per il futuro della società e per tutti i canzatori che la società ha. Quanto è cambiata la medicina, il vostro modo di operare in questi ultimi anni? Beh, io ho iniziato come aiutante nel anno 65, portavo tutta la mia vita dentro del calcio, dentro della Federazione Catalana di Fútbol e la Española, e per quello e per lo di ora, io penso, nel mio maestro, che ha morto, che se viese lo che sta succedendo oggi, credo che si asustaria per il cambio. E lo che, perdone, e lo che ancora ci spera per venire, perché in pochi anni questa medicina va a cambiare molto e il bisturì si va a utilizzare meno in favore della medicina biologica. Cambia anche l'aspettativa del giocatore, perché si allunga la carriera professionale di un giocatore qualche anno fa, un intervento al ginocchio o comunque un intervento su un professionista spesso determinava anche la chiusura della carriera. Se può essere, il giocatore non deve passare per un giocatore, fare medicina preventiva è lo più efficace per il giocatore e per la società, per il club, è prevenire prima di curare. Come io sempre dico, il giocatore deve essere in forma per fare il suo deporte, che è il giocatore, il giocatore. Ha visto Zingonia, il centro Bortolotti, che impressione ne ha avuto? Il centro è magnifico, un centro, come diciamo in Cataluña, molto coqueto, molto bonito, molto ben utilizzato in tutti gli spazi, la fisioterapia, l'acqua, il campo di allenamento, ben cuidado, fuori la città, non c'è tanta poluzione, con molti arvoli, la hierba, il céspede, oggi piove, molto húmedo, meno lesioni, mi ha gustado tutto, tutto molto bene. In un espacio reducito hai di tutto, è un centro minimalista per un gran club.